Con l'intervento del segretario generale della CGL, Guglielmo Epifani, restano accesi al pallacongressi di Montesilvano i riflettori sul congresso nazionale della FIOM, per la seconda volta consecutiva ospitato dall'Abruzzo, anni durante i quali, sottolinea amaramente il leader regionale dei metalmeccanici CGL, Nicola Di Matteo, lo scenario per i lavoratori del comparto in questa regione non è cambiato che in peggio. Chiaramente da quattro anni a questa parte la situazione in Abruzzo è precipitata, non soltanto per quanto riguarda il terremoto, adesso Fiegadelli ha fatto il punto sul terremoto, ma anche e soprattutto per quanto riguarda la crisi, una crisi che ci attanaglia ormai in tutti i settori a iniziare dal nostro. I dati sono tremendi, li abbiamo ricordati in questi mesi, in tutte le iniziative fatte dalla FIOM e dalla CGL, li stiamo confermando purtroppo anche perché all'orizzonte non si intravede granché. La FIOM abruzzese chiama per l'ennesima volta in causa il presidente Chiodi ad assumere, come gli altri governatori, un proprio ruolo nella partita nazionale sul futuro dell'automotive. La preoccupazione che scuote la Val di Sangro riguarda in particolare i nuovi piani industriali del gruppo Fiat, che Marchionne illustrerà nei prossimi giorni in una kermessa all'ingotto. Faremo in tutte le regioni un presidio, anche lì dove si terrà all'ingotto questa iniziativa che è europea, anche con gli americani, con gli altri sindacati europei, per ricordare la situazione in tutte le regioni, di tutte le realtà che hanno difficoltà, quelle che già sono state chiuse e annunciate, termine merese e altre, ma anche quelle come Sevelle per esempio, che hanno ormai un piano industriale dimezzato, che ha una società che non si riesce a capire se durerà, quanto durerà rispetto ai francesi. Ecco, andremo a denunciare queste cose e io credo che sarebbe opportuno, sinceramente, nei prossimi giorni, ma per non dire le prossime ore, che il governatore Chiodi ci convochi realmente per iniziare a ragionare, a far capire realmente come sta la situazione anche in Abruzzo.